Ben ritrovati da MeteoInCalabria.it. Dopo una veloce parentesi di maltempo della giornata di ieri, ci avviamo verso una fase di miglioramento per la nostra regione. Notiamo un ponte anticiclonico tra la penisola scandinava e il vicino atlantico alimentare una goccia di bassa pressione che apporterà un peggioramento del tempo sul Mediterraneo occidentale in direzione di Sardegna e centro nord tirrenico della penisola. Come già detto, migliora al sud, quindi sulla nostra regione con cieli poco o al più parzialmente nuvolosi. Vediamo ora cosa accadrà in dettaglio attraverso le nostre mappe di previsione. Oggi parzialmente nuvoloso su Pollino ed Alto Ionio, dove non si escludono nel primo pomeriggio addensamenti più intensi associati a deboli piovaschi. Generalmente sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in aumento nei valori massimi. domani ancora poco o parzialmente nuvoloso ovunque con addensamenti più significativi lungo i rilievi il versante ionico, dove non si escludono possibili locali ed isolati deboli piovaschi. In serata è previsto un aumento della copertura nuvolosa medio alta sul Reggino e Vibonese. Temperature stazionarie. Vediamo ora il comportamento di mari e venti. Oggi venti moderati da nord su Tirreno Centro-Settentrionale e Ionio Meridionale con mari mossi. Forti su Tirreno Meridionale e Ionio Centro-Settentrionale con mari molto mossi. Domani venti deboli a regime di brezza ovunque con mari. Quasi calmo o poco mosso il Tirreno, calmo o quasi calmo lo Ionio. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto per oggi, grazie per la cortesa attenzione. Appuntamento a domani.